Nel video articolo di oggi parliamo di uno dei miti da palestra più famosi in assoluto per il muscolo gran pettorale ossia la presunta esistenza di un pettorale interno e di un pettorale esterno scopriamo analizzando anatomia e fisiologia articolare come mai questo è un mito privo di fondamento Per dirimere la questione partiamo dall'anatomia sappiamo bene che il muscolo gran pettorale ha diverse inserzioni anatomiche queste sono a livello della clavicola, a livello dello sterno, a livello dell'aponerosi addominale per andare poi ad inserirsi a livello della cresta del tubercolo maggiore dell'omero possiamo quindi notare che per sua localizzazione il muscolo ha un andamento di questo tipo con le fibre muscolari che appunto hanno un decorso orizzontale a ventaglio in virtù di ciò possiamo cominciare a dire che se il muscolo si contrae attraverso un principio di contrazione e di avvicinamento delle fibre verso il centro immaginiamo le fibre muscolari come delle corde che trascinano i segmenti anatomici possiamo sicuramente affermare che il pettorale che esiste può essere quello alto o quello basso sicuramente non può esistere invece il pettorale interno e il pettorale esterno questo perché se appunto le fibre come abbiamo visto hanno questo decorso sarà impossibile attivare solo una piccola parte esterna o solo una piccola parte interna le fibre durante la contrazione si contrarranno lungo tutta la loro lunghezza quindi in base a quanto visto possiamo dire che le porzioni esistenti dei gran pettorale sono quelle clavicolari e quelle esterno costale porzioni che hanno questo tipo di andamento e questo è il motivo per il quale appunto il pettorale per esempio in palestra è reclutato attraverso adozioni lungo il piano trasversale appunto perché le fibre muscolari andando da questa direzione a questa e contraendosi, accorciandosi, trascinano l'omero in questa direzione se esistesse un petto interno e un petto esterno il gran pettorale non avrebbe le funzioni anatomiche che vediamo tutti i giorni riprodotte in palestra con sovraccarichi abbiamo visto come è bastato un semplice ripasso di anatomia per sfatare il mito del petto esterno e del petto interno arriviamo però adesso ad approfondire il discorso pratico come mai molte persone riferiscono sensazioni di lavoro muscolare nella parte interna o nella parte esterna e ancora come mai molte persone riferiscono il giorno successivo all'allenamento del pettorale dolore appunto nelle medesime zone questo può essere spiegato dal fatto che questi punti corrispondono alle giunzioni mio-tendine ovvero il passaggio da fibra muscolare a tendine zone che sono molto ricche di recettori del dolore, molto sensibili allo stiramento questa caratteristica fisiologica comporta appunto una sensazione di stiramento a livello appunto della vicinanza dell'inserzione ossea sia nella sua parte interna che nella sua parte esterna quindi le sensazioni che sentite durante l'allenamento e i giorni successivi non sono dovute al fatto che si sta attivando la parte esterna o la parte interna del pettorale ciò non accadrà mai tali sensazioni sono invece evocate appunto per questioni recettoriali e di sensazioni dolorifiche quindi in conclusione dell'articolo due messaggi chiave da portarci a casa 1. il petto esterno e il petto interno non esistono per ragioni puramente anatomiche 2. le sensazioni di lavoro muscolare che riferite nella parte esterna e nella parte interna del petto non sono dovute al fatto che il muscolo è diviso in parte esterna e in parte interna ma sono dovute a microlesioni o a stiramenti di tale zone che sono le giunzioni mio-tendine dimenticate quindi questa divisione del gran pettorale ricordate che il gran pettorale invece è diviso in parte alta e parte bassa e ricordate sempre che le sensazioni non sempre corrispondono all'anatomia musica